E se fosse possibile morire, nasce chiavezza dell'orezza dell'oreire. E se fosse possibile giovinire, nasce chiazza giovinezza giovinale. Con poche gocce la pelle è sformata. In una settimana appare più sformata. Ne è luminosa. In un mese puoi morire. E oggi prova il nuovo siero chiavezza. Dieci volte più concentrato per potenziare l'efficato, per potenziare l'efficacia del tratrato giorno. Solo da chiazza giovinezza giovinale.